Nessuno di noi ha il diritto di non dimenticare uno sbaglio a una persona che ha pagato e ha chiesto perdono alla società. Nella sua lunga visita a Napoli, Papa Francesco ha trovato il tempo anche di incontrare i detenuti, pranzando con loro nel carcere di poggio reale. Un momento fatto di semplicità e familiarità, di canti e di risate, di parole capaci di dare speranza. Ai rappresentanti presenti della casa circondariale, il Pontefice ha chiesto di non perdere la fiducia nel futuro, ricordando che andare avanti, rialzarsi dopo una caduta è difficile ma non impossibile. Rispondendo alle domande di due detenuti, Papa Bergoglio ha insistito sul tema dell'accoglienza e del perdono, che faticano a entrare in una società che si dice cristiana ma che nei fatti è più pagana. Dio perdona e dimentica e così dovrebbero fare anche gli uomini perché tutti sbagliamo e tutti abbiamo bisogno di comprensione di una seconda occasione. In fin dei conti ha ricordato Papa Francesco, salutando e abbracciando ogni singola persona, il primo santo della Chiesa è stato un carcerato, un condannato a morte.